hai fatto altre interviste qualche volta alla rai cioè io va almeno la terza quarta volta che vado in televisione ti ho dato un libro con la foto del mio quadro con l'immagine del mio quadro te lo do adesso quel libro è stato presentato a telesalute uno dei canali nazionali ero io e l'autore ero io che parlavo della cromoterapia non lui lui faceva solo dei piccoli interventi e imbeccamenti tecnici ma io parlavo della scrittura della cromoterapia in senso spirituale psicologico e curativo del corpo adesso ti do il libro che ce l'ho in macchina telesalute no no si chiama proprio adesso si chiama yes tv ha cambiato nome ecco primo piano dell'autore con i propri lavori pirografia doratura ma non solo anche bianco pastello vero perfetto anche queste erano batterie quasi esaurite però io le ho buttate prima che fossero completamente esaurite e le ho sostituite quindi le ho recuperate adesso dal cestino e sta funzionando perfettamente bene grazie Pierluigi ecco vi ho presentato le opere di Pierluigi Delfini che naturalmente vedrete nel mio blog da stasera ok